Tutto quello a cui assistiamo crea un vuoto assoluto sui termini della pace. Noi continuiamo a osservare Putin e magari anche a individuare elementi di debolezza, la Wagner o di forza, i leader asiatici che si sono riavvicinati, però tutti questi discorsi non hanno mai una ricaduta sul tema del possibile cessare del fuoco. Ora c'è un'intervista di Kissinger, proprio di queste ore, il quale dice che la mossa cinese potrebbe dare frutti entro la fine dell'anno. Speriamo che sia così.